Ben ritrovati da Kettered e della Voce di Rovigo, siamo negli studi di Delta Radio nella nostra rubrica Caffè Dec in collaborazione con il Cur di Rovigo in compagnia del professor Michele Di Bari per parlare questa sera di presidenzialismo o premierato. Buonasera professore. Buonasera a tutte e tutti e grazie per avermi invitato. Ecco la prima domanda che le faccio professore riguarda le funzioni del Presidente della Repubblica. Noi lo seguiamo tutti i giorni in televisione però la funzione di controllo che è propria del nostro Presidente della Repubblica secondo la Costituzione è stata interpretata in maniera diversa negli anni. Secondo lei chi è stato il più fedele? Allora Kettered e io mi fa una domanda a cui io non dovrei o potrei rispondere nel senso che dipende dalla prospettiva con cui si guarda la figura del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica sicuramente è una figura di garanzia ed è una figura che noi pensi a lezione rappresentiamo come una sorta di rotellina di un orologio, un ingranaggio. Perché? Perché permette sia al circuito cosiddetto delle garanzie di funzionare, pensiamo all'esempio alla funzione importantissima del Presidente della Repubblica di nominare cinque giudici della Porta Costituzionale. Ma dall'altro lato entra anche nel circuito della decisione politica. Nel nostro ordinamento è il Capo dello Stato che conferisce l'incarico al nuovo esecutivo, è il Capo dello Stato che scioglie le Camere. Ora se tu mi chiedi quale Presidente ha interpretato meglio questa funzione, devo risponderti dipende e dipende anche da quale funzione noi prendiamo in considerazione. Se penso ad esempio alla funzione che riguarda la possibilità di sciogliere le Camere, a me viene in mente una nota presa di posizione dell'allora Presidente Scalfaro, il quale sollecitato dopo la caduta del governo Berlusconi a sciogliere le Camere, disse no, io non posso sciogliere le Camere perché se il Parlamento è in grado di esprimere un'altra maggioranza io devo conferire l'incarico al nuovo esecutivo. Su questo devo dirti c'è corsa in soccorso anche la Corte Costituzionale che in una nota sentenza, la 1 del 2014, ci ha spiegato sostanzialmente che il Presidente della Repubblica svolge questa funzione di garanzia, lo scioglimento delle Camere è un potere che il Presidente deve esercitare, mettiamola così, con una certa parsimonia, cioè avendo riguardo di quello che le Camere sostanzialmente possono esprimere. Perché? Perché le Camere sono il luogo della sovranità popolare, è l'unico luogo, se ci pensi, in una democrazia parlamentare dove noi vediamo in modo plastico la sovranità popolare, perché ci sono i rappresentanti del popolo. Poi ci sono stati altri Presidenti che, vogliamo metterla così, forse erano un po' più interventisti, quindi si facevano sentire di più. È anche vero però che in una democrazia parlamentare come la nostra la voce del Presidente si sente molto quando la classe politica è in crisi. È debole. Si sente molto meno quando la classe politica è capace di assolvere la sua funzione, quindi è stabile, non ci sono problemi nel circuito della decisione politica. Ora, ti faccio un esempio molto recente. Il Capo dello Stato da poco ha fatto sentire la sua voce in più occasioni, ma una è stata emblematica. A un certo punto ci sono alcune forze politiche che si dice lo tirano per la giacchetta e gli chiedono di non promulgare le leggi, di non firmarle, di rinviarle alle Camere. Lui firma le leggi, le promulga. Lui le promulga, però giustamente lui ha chiarito questa funzione, lui ha detto io sono il Capo dello Stato, non sono un sovrano, non sono il re, io non devo decidere se la legge entra o non entra in vigore. Io mi limito a promulgare. Quella funzione che peraltro ha, cioè ha il potere di rinvio alle Camere di un testo di legge, la deve esercitare con grande parsimonia perché di nuovo entra in conflitto con il Parlamento in questo caso e lo fa solo ed esclusivamente se vi sono palesi vizi di costituzionalità, funzione di controllo, altrimenti promulga. Tanto è vero che questo presidente per esempio ci ha abituato a delle promulgazioni diciamo di tipo interpretativo, delle volte ha promulgato penso la legge sulla legittima difesa, l'ha promulgata però ha anche spiegato in fase di promulgazione che quella legge c'erano dei profili, che i giudici avrebbero dovuto interpretarla in un certo modo. Quindi se è sempre intervenuto con grande discrezione rispetto appunto alla decisione politica del Parlamento. Questa è la funzione che ci aspettiamo da un presidente in una forma di governo parlamentare, qual è la nostra? Le faccio l'ultima domanda che riguarda... Puoi darmi del tu. Grazie, grazie. Allora sfatiamo il lei e introdiciamo il tu. Ecco, anche perché siamo in radio, la radio è molto più leggera. Presidente e monarca è una cosa completamente diversa. Sono due cose diverse, o meglio se noi andassimo diciamo ad osservare quelle che sono le monarchie parlamentari, allora nella monarchia parlamentare il monarca è abbastanza simile in termini di funzioni, abbastanza simile ma con tante virgolette al capo dello Stato. Con una però grande differenza, il monarca non cambia mai e di fatto il succedersi del re è per via di sangue, mentre per quanto riguarda il capo dello Stato è una figura elettiva che viene rinnovata di tanto in tanto, dipende poi dal sistema costituzionale che andiamo ad osservare. Ma per quanto riguarda le funzioni possiamo dire che sono funzioni molto simili, cambia solo la modalità di decisione. Eccoci di nuovo in redazione, siamo in compagnia del professor Michele Di Bari, docente di diritto costituzionale, perdonatemi, all'Università di Padova. Oggi parliamo delle funzioni del Presidente della Repubblica e di presidenzialismo nella nostra rubrica Caffè DEC, pillole di diritto per capire meglio il mondo, in collaborazione con il CUR. Ecco abbiamo parlato professore delle funzioni del Presidente della Repubblica e di chi è stato diciamo più fedele senza fare nomi perché siamo super corretti. Adesso si sta molto parlando dell'introduzione del presidenzialismo, lei mi spiegava che non è esattamente così, anche se noi tendiamo a semplificare, a parlare di presidenzialismo. Esattamente, diciamo che sostanzialmente noi chiamiamo presidenzialismo tutto quello che rientra nella possibilità di votare direttamente il capo dell'esecutivo. In realtà quello che si prefigge è la proposta che è stata depositata in aula, c'è un disegno di legge governativo, di riforma costituzionale, quindi poi vedremo come andrà. Ma non ti nascondo che tra colleghi, tra giuristi, già è pieno di scritti che criticano questa riforma, alcuni favorevolmente, alcuni più diciamo negativamente. Io non mi nasconderò perché sono abituato da avere molta onestà intellettuale su questo. Io vedo questa riforma in modo critico negativo perché a mio avviso è scritta male. Innanzitutto si vorrebbe introdurre quello che si chiama appunto il premierato che è una forma di governo nella quale il presidente rimane, per cui il capo dello Stato rimane, ma c'è un esecutivo che di fatto ha una più forte investitura popolare. In realtà non è nemmeno però il premierato per come lo conosciamo nell'altra esperienza noi familiari. Penso al Regno Unito dove c'è il premierato perché qui che cosa accade? Nel Regno Unito non si vota direttamente per il premier ma è il capo del partito che vince, Labour oppure i Tories, che prende poi diciamo il ruolo di primo ministro. Nella riforma che è stata proposta quello che accadrebbe è che il cittadino verrebbe chiamato a votare sia per il rinnovo delle camere sia direttamente per il presidente del consiglio. Il problema però qual è? Qui ci sono gli elementi diciamo di contraddizione di questa riforma che di fatto va a depauperare le funzioni del presidente della Repubblica, non lo si dice esplicitamente ma questo accade. E per questo si parla di presidenzialismo? Per questo si parla di presidenzialismo, confondendo però le acque, ma dall'altro non introduce un vero premierato e non introduce nemmeno una forma similare di presidenzialismo. Ti faccio un esempio, oggi nel nostro ordinamento il governo si forma in questo modo, il capo dello Stato ha fatto le consultazioni, conferisce l'incarico a un signore o una signora, quest'ultimo o quest'ultima fornisce la lista dei ministri al capo dello Stato il quale li nomina e quindi il governo è interamente nominato dal capo dello Stato, primo ministro e ministro. Nella proposta di riforma quello che accade è che il capo dello Stato ha l'onere di nominare colui o colei che è stato eletto, ma dovrà nominare nuovamente anche i ministri su proposta di quest'ultima o quest'ultima. Ora tu mi dirai ma che problemi ci sono? Eh ci sono problemi, perché oggi uno dei grandi problemi che affligge la forma di governo italiana è che il premier, il presidente o la presidente del consiglio non può obbligare le dimissioni sui ministri, non lo può fare perché non li ha nominati lei o lui, molto semplicemente. Questa situazione rimane invariata, se la riforma passa sarà sempre il capo dello Stato a nominare i ministri e quindi possiamo tradurla, non potrà il nuovo presidente del consiglio, anche se eletto, anche con grande mandato popolare, dimissionare i suoi stessi ministri. E questo è un problema che si è già presentato nella Repubblica, cioè storicamente è già capitato che dei presidenti del consiglio entrasse di conflitto con dei ministri, pensiamo al caso Mancuso dove il Parlamento dovette sfiduciare individualmente quel ministro perché non si voleva dimettere. Quindi sotto questo profilo è una riforma, se vuoi, che parte già un po' azzoppata. C'è poi un altro elemento che è introdotto nella riforma così come è stata proposta e io mi aspetto che verrà modificato. Si aggiunge anche che nel momento in cui viene eletto il presidente del consiglio la lista a questo collegata riceverà un premio di maggioranza che automaticamente le farà ottenere il 55% dei seggi. Ora, non bisogna essere degli esperti di statistica o di matematica per capire che nel nostro ordinamento ci sono almeno tre partiti che superano di gran lunga il 15-17%. Quindi, e quando diciamo li andiamo a misurare elettoralmente, nessuno di loro supera nemmeno il 40%. Si attestano sotto il 30%. Infatti di solito vincono tutti alle elezioni. E quello che però accade, Catti, con una riforma di questo genere è che con un partito che prende il 30% potrebbe ricevere un premio di maggioranza del 55%, completamente calpovolgento, il, diciamo se vuole, l'eguaglianza del voto tra i cittadini, perché un soggetto politico con il 30% governa su tutto il resto della popolazione. Ora, su questo però, e anche qui vedo un po' di cecità in chi ha fatto la proposta, di nuovo la Corte si è espressa con una sentenza all'1 del 2013 in cui ha detto che i premi di maggioranza che distorcono la rappresentanza sono incostituzionali. Perché almeno si deve fissare un limite. Io lo posso pure dare un premio di maggioranza, se raggiungi il 40%, per esempio, ma non automaticamente chi prende un voto in più. Perché questo vuol dire che in un sistema frammentato come il nostro, un partito del 30% potrebbe trovarsi col 55% dei seggi. Allora, ti faccio una domanda secca per chiudere la trasmissione. L'Italia è pronta per il premierato o presidenzialismo? Catti, non lo è. Esattamente come non era per il bipolarismo. Abbiamo fatto leggi elettorali per spingere la classe politica a dividersi in due grandi partiti e abbiamo ottenuto sempre due grandi coalizioni elettorali che si scioglievano come neve al sole quando era il centro-sinistra il giorno dopo le elezioni, che si scioglievano un po' dopo quando era il centro-destra. Non siamo un paese bipolare, quindi è difficile introdurre elementi di presidenzialismo, a mio avviso. Bene, grazie, grazie mille professore Di Bari, grazie ai nostri ascoltatori.